salve a tutti sono paolo zappatore di tecpaolo.it e oggi andremo a risolvere un problema un po comune a tutti spesso ci capita di voler andare su internet il sito magari non è raggiungibile perché magari è bloccata la visione in italia il trucco più semplice è quello di modificare i dns in maniera da non sfruttare quelli del proprio provider ma utilizzare i dns di google che tra l'altro velocizzano la nostra navigazione cambiare i dns è molto semplice andiamo dal pulsante start clicchiamo impostazioni andiamo su rete internet e a questo punto andremo a fare modifica opzioni scheda chiaramente io ho tre tipi di connessioni una bluetooth che non c'entra nulla con internet una ethernet di cui il cavo non è collegato l'altra wifi chiaramente questa procedura vale sia per i cavi ethernet che per le connessioni wifi dipende da quale utilizziamo noi in questo caso io utilizzo la wifi quindi vado con il tasto destro e clicco la voce proprietà all'interno delle voce proprietà trovo protocollo internet versione 4 ci faccio un doppio clic e dico al mio computer di utilizzare questi dns server che sono quelli di google 8.8.8 il dns preferito il dns alternativo è 8.8.4.4 chiudiamo la casella confermiamo con ok confermiamo con ok dopo di che possiamo chiudere tutte le finestre ora abbiamo i dns sbloccati potremo navigare più velocemente e su qualsiasi sito vogliamo senza che ci sia nessun blocco spero che il trucco vi torni utile e se lo è vi prego di mettere un mi piace e di iscrivervi al canale per ricevere altri suggerimenti buona giornata